L'anticipazione riguardante la serie televisiva italiana Un posto al sole suggerisce un avvenimento significativo. Sembra che Marina e Roberto, due personaggi chiave della trama, stiano per sposarsi. Tuttavia, il loro momento di felicità potrebbe essere compromesso dal ritorno improvviso di Lara, accompagnata da un neonato. Il copione dell'episodio 6136, che dovrebbe andare in onda a febbraio, descrive una scena in cui Roberto e Marina rientrano a casa dopo il matrimonio. Ma Marina sembra essere turbata nonostante l'apparente gioia del momento. Anche l'assenza di Alice, un altro personaggio, suggerisce che ci possano essere sviluppi inaspettati nella trama. Questo potrebbe generare tensioni e complicazioni nella storia, influenzando la vita dei personaggi coinvolti. Tuttavia, per scoprire esattamente come si svilupperanno gli eventi e quali saranno le conseguenze di queste rivelazioni, sarà necessario guardare l'episodio quando andrà in onda.